I medici mi hanno dato poco tempo per vivere e adesso sono preoccupata per Zoe vorrei che tu fossi quel padre meraviglioso che so che saresti stato se io te l'avessi permesso perdonami John prenditi cura di lei e amala così come io ti ho amato bravissima Givonne intanto prima ti faccio i complimenti e poi ti dico anche che non era facile interpretare il personaggio di Paula perché quando io l'ho scritto ho pensato un personaggio estremamente sfaccettato ma tu sei riuscita da brava attrice ad incarnare perfettamente questo carattere grazie benvenuta nel cast di life grazie Alex davvero di cuore mi emozionano le tue parole e mi sono veramente sentita mio agio impersonando Paula e sono felice e emozionata di essere nel cast di life hai visto che ancora una volta insieme ce l'abbiamo fatta l'audio movie prende vita per la prima volta grazie ad una colonna audio capace di suscitare maggiori emozioni di infirma sei pronto a metterti in gioco partecipa al casting di life ti aspetto grazie a tutti grazie a tutti